Turismo e cultura a sostegno dello sviluppo delle aree interne è il tema di un incontro promosso da Fondazione Carispac, Adzi e FederCulture. Nuove sperimentazioni da promuovere e progetti innovativi usando risorse europee e nazionali. Uno dei temi importanti è quello del turismo religioso che nell'anno della misericordia può essere uno stimolo molto importante. La visita di Papa Francesco è stata senza dubbio in traino. Il turismo religioso interessa non soltanto come evento economico, anche quell'aspetto va tenuto presente, va incoraggiato, va promosso, ma va tutelato e rafforzato perché rappresenta un modo in cui si costruisce insieme una civiltà della fraternità, una civiltà del rispetto della persona, di ogni persona in qualunque condizione. Quindi turismo religioso significa anche una missione che viene svolta e che noi dobbiamo, per così dire, essere consapevoli di dover accompagnare. Siamo nella condizione di poterci aprire a questo flusso e di offrire un segnale importante di prossimità e di incontro con tutti. I temi affrontati sono stati tanti nel corso della mattinata, anche quello delle dimore storiche come elemento centrale per la ripartenza delle economie territoriali. La Fondazione Carispac ritiene il turismo davvero un volano per le economie e lo ha capito promuovendo bande e iniziative. Dalla venuta del Papa ha preso un input importante nei confronti di questa iniziativa del turismo e abbiamo visto, io penso che all'Aquila si è notato tantissimo, la presenza è stata molta e continua ad esserci. Allora abbiamo pensato che questo argomento deve essere portato avanti e con questa iniziativa proponiamo un altro progetto e lavoreremo sempre di più intorno alla cultura, perché non è vero che la cultura non fa ricchezza.